Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo come da resto ieri all'incendio che a Gela ha provocato la morte di una 39enne arsa viva all'interno della sua abitazione di via Novara, la procura ha aperto un'indagine, l'attività investigativa e della polizia da accertare attraverso elementi ben precisi da dove il fuoco si è propagato e soprattutto perché e bisognerà anche capire se i soccorsi sono stati tempestivi o se qualcosa non ha funzionato, la salmata della vittima è stata trasportata all'obitorio del cimitero di Farello, lunedì probabilmente l'autopsia, vediamo. Si indaga tutto campo per capire cosa ieri mattina ha scatenato l'inferno di fuoco che ha provocato la morte di Concetta Legname, 39 anni, arsa viva dalle fiamme che hanno completamente distrutto l'abitazione al quarto piano dello stabile di via Novara a Gela in cui viveva col marito. La procura diretta da Fernando Asaro ha aperto un fascicolo, le indagini sono condotte dalla polizia agli ordini del dirigente Francesco Marino. Bisognerà individuare attraverso elementi ben precisi da dove il fuoco si è propagato e soprattutto perché è bisognerà anche capire se i soccorsi dei vigi del fuoco sono stati tempestivi o se qualcosa non ha funzionato. Testimoni oculari ieri hanno raccontato che la scala utilizzata dai pompieri per accedere all'appartamento di Orato delle Fiamme si è inceppata mentre la donna chiedeva disperatamente aiuto. Intervistato dalla testata online quotidianodigela.it, Salvatore Lauricella, ispettore antincendio dei vigi del fuoco di Caltanissetta, ha riferito che l'autoscala si è bloccata, succede con i mezzi elettronici. L'operatore è riuscito a liberarla con una manovra. Quei due, quattro minuti poco sarebbero serviti a salvare la malcapitata che era già avvolta dalle fiamme. L'autoscala, ha aggiunto, è un mezzo di 15 metri e per nulla agile. Ha avuto difficoltà a recarsi sul posto. Non è stato possibile nemmeno usare il telone di salvataggio perché in Sicilia ne esistono solo tre, ha riferito ancora Lauricella. Sono dislocati a Caltanissetta, Palermo e Catania. Noi dobbiamo garantire le emergenze nella zona di Agrigento, Caltanissetta, Enna e nei vari distaccamenti. Di certo non ci sarebbero stati i tempi tecnici per sollecitare l'arrivo di un telone di salvataggio. Avrebbe impiegato almeno un'ora perché da Caltanissetta viene trainato con un fuoristrada. Sarebbe stato perfettamente inutile portarlo, altrimenti, continua Lauricella, lo avremmo richiesto. E ieri sera, nella stessa abitazione, teatro del mortale incendio, si è riacceso un altro focolaio subito spento dai pompieri. Intanto il corpo di Concetta Legname è stato trasferito all'obitorio del cimitero Farello in attesa delle disposizioni del magistrato sull'autopsia che probabilmente sarà eseguita lunedì prossimo. Dovranno scontare rispettivamente due anni e tre mesi e due anni e cinque mesi di reclusione i due rumeni arrestati dalla Polizia di Gela su ordine della Procura della Repubblica di Caltanissetta. Si tratta di Gabriella Zanfir, 28 anni, e di Aurelian Rata, di 33, l'accusa di sfruttamento della prostituzione minorile e minacce. I fatti risalgono al 2014. Fu scoperto che una giovanissima connazionale veniva costretta ad incontri sessuali a pagamento in un appartamento del centro storico. Sempre la Polizia di Gela ha denunciato una 46enne che, nonostante la precedente denuncia di maggio, avrebbe continuato a gestire rifiuti speciali e pezzi meccanici senza alcuna autorizzazione ed un gelese di 49 anni per evasioni. Controllati lì di attività commerciali, sono tre le infrazioni contestate, sono 50 le persone identificate. E adesso occupiamoci, anticipando la pagina sportiva, del terremoto in casa a Gela Calcio. Lascia il presidente Angelo Tuccio, la società è in vendita. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è riconducibile alla gestione dello stadio Vincenzo Presti, divenuto quello che lo stesso club Biancazzurro definisce argomento di guerriglia urbana. Le nubi erano già dense all'orizzonte da qualche giorno a questa parte. Ieri, al termine di un consiglio di amministrazione straordinario, è venuta giù la burrasca. Angelo Tuccio si è dimesso da presidente del Gela Calcio. Prende al suo posto Francesco Tuccio, portavoce. è stato nominato il vicepresidente Egidio Alma. Al di là di una fisiologica rimodulazione delle cariche dirigenziali, il problema c'è, esiste ed è traumatico. La società Biancazzurra, infatti, ha deciso di rimanere a disposizione solo fino a mercoledì 3 agosto prossimo per verificare l'eventuale interesse di terzi a rilevare in toto il club. In sostanza, la società è in vendita. Questa dirigenza, infatti, ha deciso di scrivere la parola fine alla propria esperienza nel calcio. Il genere è regolarmente scritto al campionato di Serie B. I programmi erano stati assolutamente rispettati e ci eravamo mossi per come avevamo pronosticato di fare. La squadra rimane iscritta, quindi non viene ad essere ritirata dal campionato, lasciando la possibilità a chi è interessato a rilevarla e a continuare, trovandosi già una situazione ben definita, che è tutto quello dell'escrizione, se c'è qualcuno che è interessato, di farsi avanti e di vedere se ci sono le condizioni per questo passaggio di testimone. In caso contrario, non si può lasciare una squadra se non c'è una struttura. I giocatori saranno messi in libertà, anche perché, chiaramente, se dovesse questa cosa sfociare per come si teme che sfoci, saranno automaticamente liberi e quindi avranno la possibilità di accasarsi in tempo utile prima che cominci il campionato. Per il giocalcio non è fatto facile mettere in sintonia varie componenti attorno ad un progetto sportivo. Bisogna fare la sintesi fra esigenze contrastanti e sensibilità diverse. È una sfida difficile, soprattutto quando si arriva a constatare che la mancanza di sintonia è figlia di forti ostilità e vere contrapposizioni. È tutto sbagliato, sia le ostilità che le contrapposizioni, ma è sbagliato anche il progetto che, dice il club, abbiamo immaginato di dare alla città, pensato in sintonia con la sua grande storia calcistica. La stessa nostra esperienza, che proprio quest'anno compie dieci anni, è la testimonianza che aggela tutto e complicatissimo. La misura dell'inadeguatezza del progetto e della nostra idea di calcio si appalesa laddove una semplice e fisiologica esigenza di uno stadio adeguato alla crescita di una squadra di calcio diventa argomento di guerriglia urbana. Tutto questo addirittura appena tre mesi dopo la grande conquista del prestigioso campionato di Sredì. Tutto assurdo. Non ci teniamo affatto ad essere percepiti come un problema. Eravamo convinti, invece, di essere una risorsa al servizio della città. Questo progetto Gela, pensavamo, potesse essere un progetto condiviso e condivisibile. Ci siamo accorti che non lo è e a questo punto abbiamo ritenuto opportuno. Nel momento in cui ci siamo accorti che anziché risolvere un problema lo costituiamo noi e abbiamo deciso di staccare la spina e di rimuovere il problema. Tutto qui. E adesso cosa accadrà? Si prevedono giorni molto caldi. Chi ricopre ruoli ben definiti al Comune faccia sentire la propria voce. Subito, con i fatti, solo tre mesi dietro, dinanzi ad uno stadio strapieno, abbiamo conquistato la Serie D, cioè dire la quinta promozione di fila. E ieri sera lo staff tecnico dell'Interarosa ha preso direttamente dalla voce del Presidente Tuccio la drastica decisione di abbandonare la società. È inutile, si legge in una nota, state qui a spiegare lo sgomento, l'incredulità e le frustrazioni di tutti noi. Però ci corre l'obbligo di far sapere a tutti che i giocatori, i dirigenti, i tecnici e lo staff medico presenti dal 18 luglio a Zafferana e Tenea hanno accettato di indossare questa maglia spinti dalla serietà, dalla competenza, dall'onestà e dalla passione dimostrata sempre dall'ingegnere Tuccio, un Presidente che con i fatti e non chiacchiere ha costruito una società modello riuscendo a portare in alto il nome di Gela, un Presidente galantuomo che ogni squadra vorrebbe avere. Dopo 12 giorni di ritiro, dove si è sudato, si è faticato e si è cercato di costruire un gruppo solido e compatto che non può non identificarsi nell'ingegnere Tuccio, si legge ancora, onestamente ci è cascato il mondo addosso. Nonostante ciò, passata la notte insonne, prendendo spunto dalla perseveranza, dalla tenacia e dalla forza che in questo decennio ha dimostrato la famiglia Tuccio, per il rispetto di questa maglia e dell'intera tifoseria, continueremo ad allenarci, completando le risposte di tiro con l'auspicio che chi è di competenza possa mettere in atto le condizioni affinché la squadra riabbracci il suo unico Presidente, l'ingegnere Angelo Tuccio. Noi, conclude la nota, ci crediamo. Non si può solo pensare agli utili della società, occorrono investimenti, così i segretari generali della CISL, UIL e CGL intervengono sulla crisi idrica, chiedendo alla Regione di valutare la rescissione del contratto a Sicilia Acqua o comunque una revisione dello stesso. Un affare, quello dell'acqua, di 700 milioni di euro all'anno, come scrivono i sindacalisti che denunciano le continue rotture delle condotte che creano grosse difficoltà alla provincia Missena. Una situazione, proseguono, che non si può più limitare con interventi tampone. Altra denuncia dei sindacati è la mancata costituzione entro il 12 aprile dell'autorità territoriale idrica che avrebbe dovuto sostituire il vecchio ato in liquidazione. Siamo stanchi di una prestazione continua che i cittadini di tutta la provincia di Caltanissetta, ma in generale della Sicilia, continuano a subire. Noi abbiamo un unico gestore che è Sicilia Acqua, che ha degli utili spaventosi sull'acqua e non abbiamo una risposta in tempo reale su questo bene comune, che tra l'altro è stato oggetto di un quesito referentario che gli italiani abbiamo ambiamente votato scegliendo che l'acqua fosse di gestione pubblica. Continua ad essere privata, non soltanto Sicilia, ma questo non è una consolazione e continua ad essere nelle mani di pochi eletti, esattamente come il grande business attenzionato anche da molte relazioni della Commissione Nazionale Antimafia del ciclo dei rifiuti. Ma riferimento all'acqua, Caltanissetta è in destra la provincia che si paga di più, ogni cittadino paga una tassa superiore già a Palermo, per esempio a Siracusa e a Ragusa e noi pensiamo che il servizio sia precario. Ci sono molti condomini in tutta la provincia che si forniscono attraverso autobotte private perché l'acqua manca per settimana intera. Volevo annunciare anche che noi stiamo facendo analizzare l'acqua in molti comuni, compreso quello di Caltanissetta, perché sempre dei cittadini che vi ringraziamo ci viene segnalato che l'acqua è ancora diverso da quello che si ritiene essere normale e abbiamo scoperto, Cabbin facendo in questa lunga ricerca, che non è né bevibile né potabile. Ci sono due caratteristiche separate per quanto riguarda l'acqua e noi denunciamo il fatto che i cittadini della provincia di Caltanissetta continuano a comprare casse d'acqua anche per lavare i beni che si usano ogni giorno e questa è una delle numerie che aumenta i costi per l'uomo familiare. Le famiglie gelesi degli alunni delle scuole statali e paritarie possono presentare istanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016, lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela. La domanda di partecipazione assieme ai sullegati dovrà essere presentata appena l'esclusione entro il prossimo 30 settembre ed esclusivamente nella scuola frequentata dallo studente che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie, secondarie, inferiori, statali e paritarie, ovvero ai liberi consorzi comunali per gli alunni delle scuole secondarie, superiori, statali e paritarie. Al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ma anche allo stesso studente se maggiorenne appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE non superiore a 10.632,94 euro. I moduli di domanda vanno ritirati nella scuola frequentata dallo studente o possono essere scaricati dal sito internet del comune di Gela. La traviata di Giuseppe Verdi alla presenza di personalità della lidica fra le più note e importanti del panorama internazionale sarà portata in scena martedì prossimo al Teatro Eschilo di Gela. Vediamo. L'appuntamento con la lidica nazionale storica martedì 2 agosto prossimo alle 20.30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. L'ingresso è gratuito. Sarà portata in scena la traviata di Giuseppe Verdi. Saranno presenti personalità della lidica fra le più noti ed importanti del panorama internazionale. L'iniziativa promossa dalla Mediterranean Opera Studio di Filadelfia diretta dal tenore Jack Livigni è stata presentata oggi dall'artista Giovanni Giudice del comitato cittadino Difendiamo la bellezza. Un'associazione di lirici internazionali bussava alle nostre porte già da un anno che non hanno appunto avuto poi seguito attraverso i loro contatti con l'assessore e noi come cittadini igelesi abbiamo voluto dare un'immagine e ricucire quello che sarebbe stato anche un incidente diplomatico. Ma ripeto la cultura unisce tutti quanti. Noi non siamo qui per dire o fare uno strumento contro la politica o contro l'amministrazione che anzi ci ha concesso e la ringraziamo per il teatro Eschilo perché martedì giorno 2 alle 8.30 di sera si fa lo spettacolo bensì vogliamo lanciare un monito e anche una idea che in città la cultura è di tutti non è solamente di chi fa politica la politica siamo noi cittadini che crediamo in una città e chi ha tante cose da dire. È una cosa che mi colpisce molto di cui sono contento anche perché so come la lirica porta questa passione che forse è anche un'eredità della gente italiana e quindi vedere come la gente si entusiasma per l'opera e a tutti i costi vuole portare questo patrimonio di nuovo in vita qui nella città di Gela per me è una cosa molto molto bella. Abbiamo lottato per un anno per prepararci portare un'orchestra, uno scenografo per preparare l'opera per esibirci qui e siamo contenti che siamo riusciti a farlo nonostante difficoltà che magari nascono con organizzazione eccetera però alla fine siamo riusciti tutti quanti assieme. Giacomo Giurato presidente dell'associazione Admo. Io sono stato coinvolto nelle doppie vesti e di presidente di Admo perché è stato scelto come social partner di questo evento e anche come componente del coro polifonico Perfetta Letizia che in questa città si è sempre distinto perché ha organizzato degli eventi straordinari è stato il primo coro che ha organizzato l'opera litica Gela Mena tre anni fa che ha avuto un successo straordinario alle Muretimo Leontè e quindi questo mio coinvolgimento è doppio e triplo perché avrò il piacere di presentare la serata e di accogliere questi amici americani che tra l'altro hanno dei curriculum straordinari e questi artisti che vanno in giro per il mondo a fare questi stage a raccogliere e a curare a prendersi cura dei talenti che è un motivo importante per raccoglierli in un grande abbraccio io penso che Gela lo farà martedì sera. E fine settimana ricco di appuntamenti quello appena iniziato nell'ambito delle cartellone estate a Gela promosso dall'assessorato agli eventi del comune retto da Eugenio Catania oggi alle 21 nella Villa Garibaldi il gruppo Gira Vota e Furria terrà un concerto tributo a Fabrizio di Andrè domani alle 10 in via Cadorna è prevista l'iniziativa artistica 4 amici al bar curata da Holiday Web alle 19.30 sarà ospite il cantastore ricatese Mel Vizzi con alcuni artisti della sua compagnia presenteranno culto e canto un percorso culturale e musicale tra dialetto e tradizioni in serata sempre domani alle 21.15 l'ex convento delle Benedettine ospiterà un concerto lirico promosso dalla associazione amici della musica Giuseppe Navarra partono da domani i festeggiamenti in onore di San Sebastiano a Gela alle 19 e nella chiesa di Settefarine sono previste la messa la chiusura delle creste e l'apertura dei festeggiamenti da mercoledì 3 agosto comincerà il triduo alle 17.30 l'arrivo delle figie di San Sebastiano nel quartiere Margi alle 18 recita della Rosario alle 18.30 vespro e alle 19 catechesi si è messa l'effigie del santo giovedì 4 agosto sarà portata nel quartiere Albani Roccella e Verdi 5 nel quartiere Poggio Blasco sabato 6 agosto alle 18 recita della Rosario alle 18.30 vespro e alle 19 solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione delle autorità civili e militari prevista la processione del simulacro in piazza Santa Faustina si terrà la benedizione con la reliquia. Ci fermiamo, linea la regia per la pubblicità. Eccoci seconda parte del telegiornale, capriamo parlandovi della manifestazione di nuoto e di tiro con l'arco che si svolta ieri alla presenza di atleti paralimpici e olimpici. Manifestazione di nuoto ieri al Lido Panama Beach di Contrada Tenutella nell'ambito dell'inaugurazione della stagione balneare estiva 2016. L'iniziativa è stata voluta dalla sede INAIL di Caltanissetta e dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Sicilia. Hanno partecipato atleti paralimpici, olimpici e si è svolta anche una dimostrazione di tiro con l'arco curata dall'Aias di Gela. È un'iniziativa che già allinea il livello nazionale per sé in tutti i LIDI e l'abbiamo voluto portare qua in provincia di Caltanissetta, da quest'anno sono direttore di Caltanissetta, per sensibilizzare le persone, i bagnanti in un momento di divertimento alle tematiche dell'integrazione e dell'accessibilità. Questo è lo scopo che l'INAIL porta avanti per cercare di aiutare gli infortunati in particolar modo, ma tutte le persone che hanno una disabilità a integrarsi e ad avere un accesso facilitato per questi momenti recreativi che credo facciano bene al cuore di ognuno di noi. L'INAIL di Caltanissetta ha voluto fortemente questo progetto perché il litorale di Gela e quindi Contrada e Nutella nel territorio di Butera è il sito lo sbocca mare naturale di Caltanissetta. Abbiamo tanti assistiti INAIL che necessitano di un lido attrezzato che possa accoglierli e far fruire loro e le loro famiglie di una giornata serena in riva al mare. Siamo riusciti ad avere questo ulteriore obiettivo, siamo riusciti ad arrivare a questo ulteriore obiettivo e dimostra anche la sensibilità che l'Aias ha avuto da sempre, da circa dieci anni nei confronti di questa tematica, la possibilità di fare scendere i ragazzi di Sabi attraverso la battiglia in acqua. Questo è un momento molto importante per l'Aias di Gela e per tutta la città di Gela, offrire questo servizio così importante per questi ragazzi che hanno una chance, un'alternativa in più per vivere una giornata diversa al mare con delle strutture finalmente adeguate che possano comunque appunto abbattere tutte le barriere che purtroppo le spiagge siciliane potrebbero appunto dare. Da qualche anno l'INAIL in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Sicilia garantisce con i lidi appositamente selezionati le attrezzature e l'accessibilità ai diversamente abili anche su altre spiagge siciliane. Il progetto si chiama MIA, Mare, Integrazione e Accessibilità e ha l'obiettivo di consentire alle persone con disabilità di riscoprire le proprie abilità promuovendo il benessere psicofisico, l'autonomia della persona e a migliorare in generale la qualità della vita attraverso l'inclusione sociale e la partecipazione alla vita comunitaria e balneare creando pari opportunità anche di svago. Diamo la possibilità a chi ha problemi di diambulazione di poter usufruire assolutamente del mare. Mare, integrazione lo facciamo all'interno dei lidi dove non è ghettizzato, non abbiamo lidi per disabili ma abbiamo un lido per tutti e accessibilità perché abbiamo la possibilità autonomamente grazie al finanziamento dell'INAIL di avere delle passerelle, delle sedie job e la FIMP mette a disposizione dei tecnici e assistenti tecnici per poter usufruire del mare. Primo trofeo podistico Ivana Siciliano si trarà domani a Marina di Accanta, l'iniziativa è della situazione contro le stragi della sabato sera presieduta da Salvatore Siciliano in collaborazione con l'atletica Padua Ragusa e l'atletica Mazzarino. La gara che avrà inizio alla 17.30 è valevole come undicesima prova delle grampi provinciale Senior Master e continua a Zafferana Etnea, parliamo di calcio, il ritiro del Gela. Ai nostri microfoni qualche giorno addietro abbiamo intervistato l'attaccante Biancazzurro Maurizio Nassi, sentiamo. Io sono legato a questa società, al Presidente, sono legato a questi colori, a questa città, l'ho sposato l'anno scorso del progetto e sono contento di farne parte anche quest'anno di questo progetto in Serie D per cercare di fare un campionato importante come merita la piazza di Gela. Però è pur vero che il campionato di Serie D non è quello di eccellenza? Sì, assolutamente, è un campionato diverso, importante, già tecnicamente più preparato, più forte rispetto all'eccellenza, troveremo squadre di blasone, però io in questi giorni di lavoro ho visto la squadra e sono convinto che la società ha fatto degli ottimi acquisti e sta facendo una buona squadra che potrà fare divertire il Gela e i Gelesi. Avete costruito un gruppo solido, manca ancora qualcosa ma arriverà, lo diceva anche il direttore sportivo Martello. Sì, ovviamente ancora qualcosa manca, siamo appena all'inizio, abbiamo fatto appena 10 giorni, 12 giorni di ritiro, quindi si sta lavorando, si inizia a capire cosa manca, cosa serve, però ho già potuto vedere che ci sono degli under bravi. Credo, ripeto, che la società farà di tutto per allestire una rosa importante. Per puntare a cosa? A fare un buon campionato, a fare un campionato importante come è giusto e come Gela si aspetta, ma come il Presidente Duccio ha sempre fatto, perché è una persona ambiziosa, come lo siamo noi, come lo è il direttore, come l'allenatore, quindi sicuramente sarà una rosa competitiva. Prende il via oggi sulla spiaggia di Gela, presso la Beach Arena del Lido Bicul Beach, il quinto torneo misto 4x4 di Beach Volley. La formula prevede la partecipazione di squadre composte da quattro giocatori con l'obbligo di avere sempre in campo una ragazza. Al torneo si sono iscritte 12 squadre che saranno suddivise in tre gironi e si giocheranno la missione ai quarti di finale. Previsti i premi per le prime tre squadre classificate, per il miglior giocatore, la migliore giocatrice e tanti altri premi e gadget a sorpresa offerti da alcuni sponsor. Le finali si terranno domani. L'organizzazione è curata da Oscar Camilleri, Luigi Turco e Giuliana Pace e il Volley Machitella si prepara a scendere in sabbia con un torneo di Beach Volley 4x4 in notturna. 12 le squadre coinvolte, 48 le atlete e del panorama gelese che si sfideranno per contendersi il primo posto di un torneo che vedrà la partecipazione femminile assestarsi al 50% delle presenze. L'iniziativa si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 agosto presso il Lido Bicul Beach. E proseguono gli appuntamenti con Teatro Sotto le Stelle all'Arena L'Aperto dell'Antitolo di Machitella a Gela. Oggi alle 21.30 salirà sul palco Giobbe Cobatta. Il biglietto costa 10 euro, vi ricordiamo che ci sono ancora posti disponibili. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.